Estimato a circa 2 milioni di euro a carico della protezione civile, i lavori di bonifica dell'area dove sorgeva l'hotel Rigopiano, andato distrutto il 18 gennaio scorso a causa di una valanga staccatasi dal Monte Siella e provocando la morte di 29 persone e dove per ora ci sono sei indagati dalla procura della Repubblica di Pescara per omicidio e disastro colposo. Il contratto sarà sottoscritto tra il Comune e la Ecoalba, società che a Farindola gestisce il servizio di raccolta differenziata attraverso l'applicazione di una specifica normativa di emergenza. I lavori porteranno alla rimozione di 8.000 tonnellate di legno e inerti divisi in due step. Il primo che con tutta probabilità partirà lunedì prossimo consisterà nella sola rimozione dei tronchi di albero, un lavoro da svolgere nell'arco del prossimo mese prima delle abbondanti nevicati dell'inverno. La seconda fase invece dovrebbe partire a marzo e concludersi a giugno, che guarderà la rimozione delle macerie utilizzando delle piattaforme di selezione e stoccaggio dei materiali. Durante i lavori di rimozione delle macerie saranno coinvolti i rappresentanti del Comitato delle Vittime che con molta probabilità potranno usufruire della casa cantoniera a due passi dall'area dell'hotel per recuperare gli effetti personali dei parenti. Sì, un ricordo ancora vivo nel nostro cuore e il tempo non ha ancora cancellato questo immane dolore. Oggi dovrebbe esserci la consegna dei lavori, quindi a giorni veramente parte il cantiere per cercare di ridare a questo territorio un posto così bello. Grazie Grazie a tutti